25 nuovi defibrillatori donati dalla Fondazione CR Trieste e l'Università di Trieste e installati in numerose sedi dell'Ateneo. Piazzale Europa, Via Filzi, Via Lazzaretto Vecchio, Androna Campomarzio, Via Tigor, Via dell'Università e Piazzale Valmaura sono così dotate di questi strumenti semi-automatici preziosissimi nel caso in cui una persona dovesse avere un arresto cardiaco. La chiave di questo tipo di intervento è un'azione tempestiva, come testimoniato da quanto accaduto poche settimane fa in Via Flavia con l'utilizzo di un defibrillatore collocato in una farmacia e utilizzato per rianimare una signora sentitasi male in un bar. La Fondazione CRT non ha avuto dubbi circa la rilevanza di questo investimento. Il territorio è stato coperto da defibrillatori già all'epoca, parlo di 15 anni fa, ma erano vicini ai centri sportivi. Il progetto del rettore ci è piaciuto moltissimo perché non copre solamente quest'area dell'università in sé per sé ma tutti i presidi universitari di Trieste e può veramente salvare la vita non solamente a coloro che vivono direttamente all'università ma anche alle persone che ci passano vicino direi. Il magnifico rettore di Lenarda abbraccia con soddisfazione questa donazione sia per l'importante flusso che investe ogni giorno Piazzale Europa ma anche se non soprattutto la collocazione nelle altre sedi utili come riferimento per i rioni. Noi abbiamo circa 20.000 persone che gravitano all'interno dell'università e quindi è importante avere questi device a disposizione ma soprattutto per le sedi cittadine ci sarà anche la possibilità proprio per la localizzazione strategica di questi dispositivi di accesso da parte del personale esterno. Quindi anche il triestino che dovesse avere necessità di un defibrillatore potrà usufruire di quelli presenti negli accessi degli edifici universitari. E poi la prossima prospettiva è anche quella magari di fare una mappa interattiva quindi coinvolgendo tutte le strutture che possiedono dei defibrillatori da mettere a disposizione di tutta la popolazione.